L'atto aziendale dell'Asile di Latina è stato approvato con 17 voti favorevoli, due contrari, i comuni di Fondi e Sonnino, quattro assenuti, ovvero Gaeta, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina. Le proposte di revisione dell'atto che definisce l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria locale sono state illustrate dal commissario straordinario Giorgio Casati, ai sindaci dei comuni Pontini, appartenenti ai cinque distretti sociosanitari della provincia, riuniti nell'aula consigliare del comune di Latina per la conferenza sulla sanità. Esprimo parere favorevole alle modifiche proposte, ha sottolineato il sindaco Damiano Coletta, nella sua dichiarazione di voto, perché condivido il principio di dare valore ai distretti sanitari affinché siano potenziati i servizi ai cittadini. Tutti d'accordo sulla necessità di potenziare i territori, soprattutto in previsione del DEA di secondo livello all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.